Questo mese sembrerebbe da 2 milioni, sì o no? E ora lo scopriremo, ora lo scopriremo. Ricordo che mese nuovo, click nuovi, mese nuovo, click nuovi su mrotrip.ib, il mio broker preferito che ci sta portando avanti il baraccone. Ok, 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 ora basta parlare di voi, parliamo di me. Basta parlare di voi. Come è andato il mese? Come è andato il mese? Qui ho nascosto maggio, perché maggio è già iniziato, purtroppo non bene, ma abbiamo aprile, come ultimo mese adesso visibile. Allora, without further ado, andiamo già al risultato, e eccolo qua, aprile, il patrimonio in franchi svizzeri è cresciuto di 11.471 franchi. Nonostante il franco svizzero è stata la currency più, 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 che è andata peggio delle tre che uso come riferimento, però comunque è andato su. Ma all time high di quasi, quasi un milione e otto, quasi, tornato ai livelli di gennaio, diciamo che sono tre mesi che siamo piuttosto flat. Il link a questo documento, non so se ha senso che lo condivida, vediamo un po', lo metto, come altre volte, mr.rip slash nw sheet, eccolo qua, tac, quindi sapete, c'è anche il sito qua sopra, quindi possiamo rimettere il link simpatico ai nostri, ai sossoldi. Quindi, mese positivo anche in franchi, notizia più divertente è che in dollari, purtroppo, ma il dollaro sta diventando dollaro dello Zimbabwe, il dollaro sta andando giù a picco, inspiegabilmente, tristemente, il dollaro va giù, va giù per del, ha perso il 4% da inizio anno, in dollari il patrimonio ha superato i 2 milioni, quindi sono multi-millionaire. E mi ero preparato la gag di copiare tech lead, ma non, vediamo un po', tech lead, multi-millionaire, sognavo questo momento da tempo, in realtà dove sta? Ah, è complicata, bisogna cercarla, non ce l'ho qui pronta. E quindi sì, sono, se fossi un americano che considera il proprio patrimonio in dollari sarei multimilionario, quindi in teoria oggi si beve whisky, però a quest'ora non ho voglia di bere whisky, quindi mi concederete il virtuale, mi attacco alla bottiglia virtuale, ma aprile è stato un mese da whisky. Quindi, un po' leggero, come va l'anno fino adesso, dal punto di vista del patrimonio, del saldo del patrimonio? L'anno fino adesso è, siamo più 100k, non malissimo, non malissimo, direi in positivo, abbastanza bene, però il mercato è molto molto instabile, non è una condizione di mercato molto piacevole, li vedo andare su e giù continuamente, c'è stato iniziando un rimbalzo rispetto al pessimo 2022, e siamo all time high, nel senso che per caso nel 2022 c'è stato un momento in cui non ho controllato, no, il massimo del 2022 era stato qui a maggio, a maggio 2022, chissà se è 2021 addirittura, vediamo un po', vediamo un po', 2021, diciamo che sto poco sopra dicembre 2021, detta così è meno divertente, detta così è poco divertente, rispetto, ah no, questa è in dollari, in dollari, momento, 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 in franchi, no, no, non diciamo cavolate, in franchi svizzeri, sto poco sopra un anno fa, un anno fa stavo 1,730, mostro 1,8, in dollari ovviamente è andato tutto schizzando perché il dollaro nell'ultimo anno e mezzo ha perso, e quindi via, la domanda, ci ho fatto, ci ho messo di più tra 0 a 1 milione o da 1 a 2 milioni, ovviamente ci ho messo di più tra 0 a 1 milione, 0 a 1 milione ci ho messo 40 anni, 38, 37, non lo so, quasi 40 anni, e adesso un bel po' di meno, comunque sono 2 milioni di dollari, quindi per me ancora questo non vale, e contengono un po' di magheggi finanziari, adesso andiamo a vedere un po' di corso, corso di magheggi finanziari, però in ogni caso, anche in franchi svizzeri, all time high di circa 350 franchi, e via, andiamo a vedere un po' cos'è successo, com'è andato l'andamento, i mercati prima di tutto, i mercati ad aprile, il mondo, il world è andato bene, è andato decisamente bene, high yield è andato abbastanza bene, meno del mondo, diciamo, quindi l'America è andata leggermente peggio del resto del mondo, quello che sta succando da un po' di tempo sono le small cap, le small cap stanno andando un po' peggio quest'anno, e in generale le individual stocks, come prevedibile, sono andati un po' peggio, i bond americani vanno piano piano su, ma il dollaro perde, per cui non è il massimo, gli altri bond continuano a far schifo, in teoria da adesso hanno maggiori expectations. Questo è quanto, abbiamo detto già le currency, purtroppo non vedo il, questo qui non è aggiornato, perché già contempla, perciò di cambiamento, last month contempla già maggio, perché è nascosto, ma c'è, per cui non riesco a, devo fare un po' di conti al volo, franco e euro stiamo lì lì, l'euro è più debole sul franco, l'euro si allontana sempre di più da 1 a 1, quindi quando vado in Italia risparmio anche a livello nominale, se leggo 10 euro sono 9 franchi e 80, col dollaro è impietoso, ormai il dollaro vale meno di 90 centesimi di franco, che ci vuole fa? Quindi, i mercati non hanno aiutato, il mondo cripto è irrilevante, un po' i miei numeri, andiamo a vedere un po' operazioni fatte, ho comprato in live 100 share di VT, di Vanguard VT, a 92,345, l'11 aprile, e that's it, non ho fatto, sono 9200 dollari di investimento, io mensilmente mando 3.000 franchi su Interactive Brokers, ma non li investo mensilmente, il mio quanto di investimento è sui 10.000, sulle 100 stocks di VT, e qui 9.000, quanto sta, sta, quindi in genere ogni 2-3 mesi faccio un investimento, spesso ho più soldi da mettere su Interactive Brokers, per cui riesco a fare ogni mese un acquisto. Quindi, operazioni fatte, ho solo comprato 100 share di VT, VT è il mio ETF All Country World, quello che è il prodotto Vanguard per il mercato americano, su tutto quanto il All Country World, quindi mercati sviluppati e mercati in via di sviluppo, il prodotto identico, equivalente, che c'è per il mercato europeo è VWCE, molto raccomandato da Italia Personal Finance, e via. Non ho fatto nient'altro, non ho fatto nient'altro, questo è stato un aggiornamento, ho delle call option, ho voluto provare a comprare delle call come tentativo di andare in leva, ma è un esperimento, è un gioco, un esperimento, sto andando, ho preso delle call con Strike Price 80 su Google, su GOG, con scadenza a luglio, e stanno andando benino, perché GOG è salita, quindi in teoria ho quasi raddoppiato il loro valore, penso che sono un po' calate adesso, va bene così. Non è ovviamente un tentativo di dire sono stato furbo, bravo, sto sperimentando un po', come call, come lottery ticket con fan money, in questo caso non è proprio lottery ticket, perché erano call in the money, non dico deep in the money, ma 80 quando il Strike Price era 93, per cui, quando il Market Price era 93, erano deep in the money, ma erano con bassa probabilità di valer zero, e un tentativo di andare in leva e vedere un po' se ha senso andare in leva usando strumenti derivati, è molto costosa come strategia, per cui non è il massimo, e via. Sta andando bene, non so se tenerle fino a scadenza, o rivenderle a un certo punto, vedo che l'estrinseco è piuttosto basso quando siamo lontani dallo Strike Price, quindi potrei anche rivenderle e via, senza aspettare l'expiration date. Domande a riguardo? Vediamo un po'. Questa qui, potrebbe essere interessante. Rip, ma tu compri le call quando vuoi entrare sul sottostante per un prezzo scontato? Allora, allora, aspetta, aspetta, c'è un po' di confusione, c'è un po' di confusione. Comprare le call, sono vari modi per comprare, quindi entra in un mondo piuttosto ampio e complicato. Io non compro le call per entrare sul mercato, compro le call, non lo faccio quasi mai, questa è tipo la seconda o terza volta che lo faccio, comprare call. Può aver senso per entrare sul sottostante a un prezzo scontato? Sì, ma non è in genere quello che mi interessa. Piuttosto vendo put, se voglio entrare sul sottostante a un prezzo scontato. Perché comprare delle call, in genere, se non vuoi pagare premi altissimi, devi andare un po' lontano dalla fase, dal market price. Devi avere uno strike price lontano dal market price, per non pagare un fottio di time value, e non è molto efficiente, in senso quello si fa per fare trading e non per fare investimento. Quindi o vai out of the money, e quindi stai comprando un lottery ticket, dici, che ne so, l'azione X sta a 10, compro una call a 50, che scade fra un anno, e se va a 100 ho fatto un botto di soldi, o se no lo prendi deep in the money e stai andando a leva. Quindi in teoria sto sperimentando, io in genere non compro call, full stop. Vendo call su asset di cui ho l'underlying, come modo per ridurre la volatilità, cedendo un po' di ritorno. È molto interessante il video di Ben Felix, che menzionavo prima, perché mostra alcuni aspetti di come non si può utilizzare lo sharp prezzo, per calcolare il risk adjust and return. È un po' complicato, probabilmente è una fallacia, probabilmente non è una strategia ottimale, anche se però poi dopo dice una cosa molto interessante, sul come in teoria ogni investitore ha il proprio return profile, e ogni prodotto può funzionare con un investitore, dipende qual è la curva obiettiva da massimizzare. Per cui ne parlerò più approfonditamente nei prossimi video e così via. Però quindi no, non compro le call per entrare un prezzo scontato. Al massimo vendo put. Penso che ho venduto anche una put, forse ieri, su VT a prezzo 90, che scade a breve. Per cui se va sotto 90, compro 90. Se non va sotto 90, ho incassato il premium e basta. Anche lì ho la falsa percezione di star riducendo la volatilità. Non va visto come un income. Ho la falsa percezione di star riducendo la volatilità, però devo studiare di più a riguardo. Ho un'intuizione, ma potrebbe non essere sensata. Spero di aver risposto. Ok? Tac. Quindi, lato stocks è rimasto tutto quanto uguale, VT è salito a cannone, ci sono anche nuovi acquisti, VYM, VYMI, VTV, value è andato bene, le small cap mi hanno fatto un po' sucare. Vabbè, ci sta. Lato pensionistico, ho solo mentalmente raggruppato, perché l'interfaccia su Fimpension me li visualizza assieme, ogni volta invece di andare nei tre conti e mettere le cifre, li ho visivamente accorpati, ma sono ancora tre account separati, quindi forse ha quasi senso che li risplitto, non lo so, ha quasi senso che li splitto nuovamente. Mi è più facile perché entro su Fimpension, vedo un numero, lo copio e incollo, ma è un po' più facile. Complessivamente è andato su anche i fondi pensione, relativamente poco, perché comunque sono misurati in franchi svizzeri, e la borsa è andato sul mondo, ma il dollaro è andato giù più o meno un altro mese quasi flat. Grandi novità non ce ne stanno, c'è una piccola discrepanza tra quelli che io reputo sia il mio fondo pensione lavorativo, è quello che mi dice la UI su AXA, che mi dice, ehi, al 30 aprile 23.150, dai miei calcoli anticipati dovrei avere 22.800, quindi forse ho qualche 200, 300 franchi in più, interessante, quando riceverò un certificato vero e proprio, aggiornerò i numeri, quindi, ok, simpatico. Le percezioni come le abbatti, i gut feeling, solo con must-date analysis? Questa è una bella domanda, in teoria è più generale di quello che sembra. Mettiamoci in visualizzazione meno... Come batto... Quando ho una... Questo penso che intendi, Marco standpipe, correggimi se sbaglio, tu intendi, ma se percepisci qualcosa, come verifichi o smentisci la tua percezione, o fai il tifo per la tua idea, come ti comporti? Soltanto con data analisi massiva, spesso non ho nei dati, nel tempo per fare data analisi così profonda. Quindi, in teoria, dipende dal problema. Se il problema ha un impatto molto grande, ovviamente mi prendo il tempo. Se mi sto giocando un milione su una decisione, prendo tutto il tempo che ci vuole per fare più data analisi. Se è un qualcosa di meno importante, cerco di delegare la cosa, in che senso? Che sposto il gut feeling dall'oggetto finale all'intermediario, che è una cosa accettabile, ma con riserva, nel senso che cerco n persone che reputo avere un livello elevato di competenza in materia, e ascolto cosa dicono loro, mettendo un minimo in dubbio ciò che dicono, ovviamente, tenendo un po' in piedi la bandiera dello scetticismo, del pensiero critico. Però poi dopo, anche lì, a un certo punto devo fare un trade-off. Energie spese nella decisione versus impatto della decisione. E molto spesso accade che l'impatto della decisione non è così importante e quindi a un certo punto analizzo tutti quanti i dati e poi seguo un mix tra gut feeling e dati raccolti. Cerco però poi di fare analisi retrospettive e dire quante volte la raccolta dati mi ha fatto cambiare idea. Se è mai, allora è quasi una perdita di tempo ed è sbagliato perché non è possibile che tutte le mie percezioni sono poi dopo rivelatesi reali. Quindi questo è quanto. Questo è una cosa importante di quanto parliamo. Cioè la mia, il mio fare covered call come strategia per a mio avviso ridurre la volatilità scoprire che non è efficiente che impatto avrebbe qualcosa avrebbe di quanto non è efficiente le considerazioni fiscali qua in Svizzera non vanno non funzionano perché vendere derivati su prodotti che hai non è considerato income ma è riduzione della cost basis qui in teoria è tutto capital gain che non viene tassato per cui ha degli impatti positivi non è come dividendi dividendi sono sbagliati lo so quindi la fa un'analisi più profonda non è così scontato che non che sia come dire che sia un falso mito questo delle covered call anyway anyway andiamo avanti andiamo avanti torniamo in modalità detto questo i bond vanno bond cripto vanno a merda le polkadot il bitcoin va bene ma la mia esposizione è un po' inutilmente inutilmente prese c'è dell'esposizione inutile ed è comunque limitata per il resto altre cose che meritano di essere menzionate business 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 non ha nulla da menzionare non è successo molto in realtà ho fatto ho avuto molto poco tempo per fare attività movimenti pensieri forse qui sto sovradimensionando il mio vi avevo detto già all'update di marzo l'ultimo conto fiscale la dichiarazione erediti quindi forse sto ho un debito che non ho quindi questo qui potrebbe essere andare a zero qui ho pagato degli acconti di primo pilastro come content creator e bla 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 niente di niente di stellare so subentrare le nuove righe tra cui fantasia credits fantasia credits cosa vuol dire che con fantasia store ho un affiliation emerald trip slash fantasia dac e mi hanno regalato board games e mi piace tantissimo il loro shop e quindi se volete comprare board games fumetti altre cose straconsiglio straconsiglio a fantasia store un bello shop italiano e via ho quindi anche un'affiliazione se usate il mio codice sconto bla 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 e via in teoria traccio da patrimonio quanto sta andando questo link affiliato 24 euro piacevole bene ecco la novità è che è entrato in patrimonio la mia collezione di board games è più una memata è più una memata ragazzi è più una roba così è più una roba educativa o didattica che una roba che ha senso per davvero questa cifra qui da dove viene ho fatto un censimento dei miei board games un documento che potrei anche rendere pubblico con tutti i board games che posseggo è uno spreadsheet con indicato anche se sono gioco base espansione accessorio e così via il link a board game geek il voto medio lo score medio l'evaluation basato un po' un po' sulle aspettative di resell value così via anche il designer se vuoi si fa un po' di data intelligence su questi qua tutti i data scientists staranno morendo dalla voglia di fare pivot table e qualche nota cosa farne alcuni vorrei darli via alcuni giochi un po' inferiori vorrei regalarli altri tenere altri forse darli via altri fanno parte della categoria family quelli con cui voglio giocarci con mia figlia mia moglie quando cresceranno anche le altre bambine e così via alcuni sono regali di cranio creations altri regali di smart experience come bear vs bull e tanti altri regali di fantasia store ce ne è a pacchi di regali di fantasia 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 e anche regali di dear game studios come feralis e fire siege fire siege dear game studios un indie game studio con due kickstarter un kickstarter di successo e un altro che sta lanciando mi hanno regalato i board games dungeons and dragons ho tipo tantissima roba ho messo valori simbolici 20 euro per la red box in realtà vale molto di più però in condizioni pessime vabbè vabbè detto qua totale eccolo qua tan 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 6544 boh prezzi li ho messi in facciamo franchi quindi questo qua l'ho preso e l'ho sparaflashato qua dentro tra l'altro visto che mi hanno regalato 1000 euro di board games ho assunto che al momento dell'arrivo fanno patrimonio la cosa figa è che adesso io se compro un board games non è più un costo se compro un board games ho soltanto comprato un asset anche il pc da 3k no 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 però i board games l'ho fatto per motivi didattici no così traccio me lo impongo così mi traccio il valore della mia collezione nel tempo poi non penso che allora qual è il problema non penso che li rivenderò mai non penso rivenderli non è un'operazione a costo zero cioè per rivenderli devo mettermi lì a rivenderli devo metterli lì a non lo so a metterli su ebay non lo so è un'operazione è un'operazione che è molto costosa in termini anche di tempo per cui non varrà sarà difficile recuperare quei soldi sarà impossibile più che altro però è un asset un domani potrei dire potrei dire al 50 vendo tutta la mia collezione al 50% di quel valore via datemi 3200 vi do tutti i board games che ho è un asset è differente da non avercelo avercelo ok volevo in realtà creare una categoria l'ho messo in extras quindi non fa non fa categoria con il resto dell'asset allocation volevo creare una categoria arte e collectibles così tanto per però questo comportava creare un'altra riga nel patrimonio semplificato stock altra asset class negli altri sheet di questo spreadsheet creare altre colonne era molto 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 faticoso quindi non l'ho fatto e quindi va bene così al momento quindi 6500 franchi di board games ad occhio ti aspettavi di fare più o meno mi sembra tanta roba beh ecco tantissima roba ho anche nella stima dei conti ho usato un po' diciamo analisi spannometrica giochi di cui non ho idea quanto valgono metto in base a quanto impegnativo voluminoso è il box tra i 10 15 20 25 quando non so quanto vale gli metto un prezzo tra i 10 ai 25 30 board game mi aspettavo più o meno più o meno così forse forse un po' di più mi aspettavo però ho messo solo valori come dire sono solo la panza conservativo credo credo alcuni giochi sono oggettivamente un po' più rari però va bene questi cavoli ecco come ha passato i 2 milioni questo mese in realtà no perché se vedi qui fanno 2 milioni 014 quindi anche se questo fosse stato zero anche se fosse stato zero sempre sopra i 2 milioni stavo e se tutto quanto è un asset che ha un resell value questa è una lezione un po' di accounting quando tu compri qualcosa in generale nel mondo aziendale nell'economia aziendale al momento dell'acquisto di un bene tu non hai un costo il costo ce l'hai al consumo del bene cioè se io mi compro un biglietto dell'autobus ancora da obliterare non ho un costo ho speso diciamo 5 franchi e ho un oggetto che potrei in teoria domani mettermi alla stazione e rivendere a 5 franchi meno eventuali ecco i costi che hai al momento dell'acquisto sono spesso quelli dovuti alla perdita di valore aggiunto se tu hai pagato un IVA o hai non lo so hai il prezzo della mancanza di credibilità no se io compro non lo so un prodotto bello incelofanato da un negozio credibile che costa 100 e io me lo compro e dopo esco e voglio rivenderlo fuori al negozio la gente mi guarda dice ma a 100 non te li do me lo compro dal produttore dentro o ti posso dare 80 quindi al momento dell'uscita dal negozio hai perso dei soldi che sono IVA e sono credibilità essenzialmente però ancora hai un prodotto hai una roba che può valere qualcosa quindi in teoria in accounting ci va il liquidation value quindi se tu hai comprato una cosa a 100 che ne puoi rivendere all'incanto a 80 stanotte il tuo costo è stato 20 al momento dell'acquisto gli altri 80 sono ancora un asset che poi nel tempo si deprezza e puoi fare un ammortamento a n anni bla 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 questo non va in contrasto con il fatto che ho sempre detto che investire in arte e oggetti collezionabili non è un grande investimento perché comunque non è un investimento di per sé finanziario a meno che non sia un intenditore del mercato oppure vuoi giocare a culo vuoi speculare non è un investimento non è un asset produttivo a meno che non compri una roba che puoi affittare se tu compri un gioco e puoi affittarlo al mese allora è un asset produttivo se no stai speculando però c'è da dire che siccome a me piace avere board games piace giocarci usarli non lo considero un investimento però sono asset che hanno un loro valore di resello ok dovrei considerare anche i board games lasciate le ex ragazze ma nessuno era particolarmente appassionato per cui non è non è non è non è la stessa cosa vedi le auto nuove fino a qualche anno fa come ti consegno le chiavi è già perso l'iva sì questo vale in generale ovunque in realtà sì nulla da aggiungere ok se finisce mano al figlio ammortamento a un anno eh esatto torniamo a noi torniamo a noi tac quindi ehm abbiamo detto patrimonio quasi un milione e otto eh all time I festeggiamo che ore sono a quest'ora un whisketto si può prendere eh no ancora è presto ancora è presto che comunque sarebbe business e quindi income ehm stiamo parlando del caso di rivendita eh jopan1n1 se parliamo del caso di rivendita sarebbe business beh è un income è un po' un cheat se io compro una cosa a 100 la uso e poi la rivendo a 80 non è quell'80 è income e anche lì è una conversione da un asset avevo un asset eh di un certo tipo lo sto vendendo quando io vendo le store se io vendessi le share dvt è income no sto trasferendo un asset eh da un tipo all'altro eh eventualmente poi considerare income la differenza tra il fair price e quello in cui tu sei riuscito a strappare il prezzo di trattativa cioè se il mondo dice che questa roba costa 20 e io trovo qualcuno che è disposto ad ammene 40 posso dire che 20 posso dire che un asset si è apprezzato o che ho avuto un income perché l'ho venduto meglio del mercato non lo so qui entriamo in dettagli che le aziende sanno bene come mettere per non far risultare non lo so non lo so qui entriamo è quasi un po' irrilevante adesso ok andiamo avanti si potrebbe ridurre la spesa nel mese in questa da fatta in teoria in teoria si in caso di vendita in teoria a questo punto con questa nuova filosofia in mente se io compro un board game non ho neanche un'uscita non ho neanche un costo a livello di expense però qui stiamo proprio citando in realtà l'acquisto di board games che non faccio da un po' è una spesa che io affronto con la mia società grazie a cognome perché poi ne parlo in live e ci faccio contenuto per cui in teoria è una business expense che però poi diventa un asset per Giorgio Cognome io ci vedo un loop magico qui ci vedo un loop magico pago 100 e ho 100 come business expense quindi meno tasse proprio dopo un asset che potrei rivendere a 100 vabbè se rivendessi dovrei rivendere come azienda e quindi sarebbe un income per l'azienda questo è vero questo è vero capital game e income però se compro 10 da 11 o uno di income no in Svizzera no io non lo considero income la Svizzera non lo considera income perché in questo caso pensa tu se tu compri investi in un pack sul tuo ETF preferito e fra 30 anni rivendi tutto che in quel momento lì è un income enorme no non è capital game capirà parliamo di 100 euro di roba 100 euro di roba figura di l'impatto ok sarebbe interessante andare a vedere un po' l'asset allocation l'asset allocation al momento non sto riaggiornando più periodicamente non sto neanche vedendo ho fatto una live con Marco Dosoni qualche settimana fa e in teoria credo che a maggio ne faremo un'altra sull'effettivo asset allocation e security selection quindi non sto più aggiornando neanche al momento il cape del mondo non sto più guardando questa parte qua so che sto più o meno 80-20 stocks bond più molta roba locked questa qui è roba bloccata come cash mi tengo attorno ai 100k e sto lì bond stocks sto 80-20 come target in realtà sono sovraesposto a stocks al momento dovrei vendere un po' di stocks e comprare bond non è neanche male come idea ma visto che non lo so non sto agendo non sto agendo e continuo a comprare stocks quando ho soldi compro stocks quindi mi tengo ancora del tempo per pensarci ok e patrimonio fatto andiamo a vedere andiamo a vedere la parte di cash flow siamo pronti ma io quasi quasi un goccetto ma si dai sono quelle 4 e un quarto si può fare bisogna festeggiare siamo multimilionari che cazzo comunque ragazzi a multimilionario la vita non cambia è tutto uguale anche perché se è multimilionario in dollari venezuelani non rianita nessuno andiamo al nostro buon amico cash flow tan 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 aprile è stato un mese dal punto di vista del cash flow molto interessante perché la la grazia cognome sta andando fin troppo bene che devo anche pensare cosa accade se quest'anno supera i 100.000 franchi di fatturato diventa un po' un casino quindi c'è il rischio che dovrò inglobare grazie a cognome dentro la retare in progress gmba perché va bene perché comunque l'andamento di varie piattaforme di streaming o di pubblicazione video questa da aggiornare attenzione questo forse da aggiornarlo ancora non l'avevo aggiornato vediamo un po' lo facciamo in real time lo facciamo analytics aprile quindi attenzione potremmo anche arrivare 25 25 25 punto 89 più 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 qui potremmo addirittura in diretta arrivare sopra al milione 8 ma tanto poi spoiler a maggio siamo già sotto dei 30k lo fanno lo fanno vediamo un po' anche rip clips aprile 137 08 137 punto 08 tac quindi questo lo possiamo cancellare e e e ancora no ancora mancano 360 euro che ma che che ci inventiamo rivalutiamo al volo un board game qualsiasi vediamo un po' anche vediamo anche soprattutto anche soprattutto la l'andamento su altre piattaforme che 745 745 562 ok sempre niente niente un 1.8 non si non si sfondano comunque è subentata la riga fantasy affiliate che questo traccia mese per mese mentre sopra ce l'ha aggregato quindi ce l'ha accumulato quindi nel corso dei mesi ogni mese traccerò quanto sto guadagnando da ciascuna affiliazione e poi qui andrà come crediti quando verrò pagato verranno scaricati quindi il momento l'income l'income event ce l'ho quando acquisisco crediti e poi dopo quando vengo pagato scarico crediti e ricevo soldi quindi però davvero partita doppista sono diventato il il di elephant in the room e interactive brokers ragazzi i b tanta roba per questo mi sento di spingerlo un po' un po' di più perché è rotto è rotto mi pagano 4 dollari a click unico quindi con questa roba qui mi viene voglia di lavorare meglio e far solo questa roba nella vita sono click unici per mese per cui se fate 50 click non contano però però wow cioè quando ho visto il conto di questo aprile questo è il conto di marzo aprile credo di aver fatto molti meno numeri molto più bassi stimo attorno ai 5.000 dollari però 7.200 dollari di interactive brokers affiliation è il mio canale ecco le mie entrate per fare lo streamer per davvero sono queste che comunque parliamo di franchi più dollari e interactive brokers boom poi c'è stato un altro lavoretto pagato e affiliazioni che sono un po' detto non fanno loro è bello come online no spare un'affiliazione in più dicono venduto per 20 euro qui parliamo 7.200 anyway ma loro come fanno inquadrare i conti se pagano si tanto non lo so evidentemente la mia esposizione mi hanno aumentato fino a fino a qui fino a febbraio fino a metà marzo se non sbaglio fino a febbraio il conto è di febbraio erano 2 dollari a click mi hanno detto complimenti ci piace molto come stai comportando ti alziamo a 4 dollari a click come fanno a quadrare i conti evidentemente la mia è un'esposizione di qualità cioè evidentemente loro hanno i loro ritorni non gli interessa la mia sponsorship o interactive brokers è per click non per account creato non per dollari depositati per cui in teoria i miei follower possono aiutarmi semplicemente con un click senza dover pagare nulla è ancora più facile del prime è ancora più facile del del fatti account amazon prime e fai la sub su twitch che tra l'altro amazon si pide al 50% questo è proprio no brainer no brainer per cui se veramente volete che faccia più contenuti aiutarmi basta un click e credo che loro il loro vantaggio il loro ritorno d'immagine è che io porto porto una bandiera porto do brand awareness non tanto nuovi utenti ma brand awareness magari vogliono fare un ingresso nel mercato europeo più sostanzioso e sono secondo loro un buon influencer in italia per questo prodotto che ripeto questo è un prodotto che io uso dal 2016 e che per diventare poi ufficialmente affiliato ho dovuto cedere a chi mi diceva ma mandagli un messaggio qui è iniziata l'avventura questo era ancora il referrer dell'invita all'amico ok qui da da luglio 2022 quindi è meno di un anno è meno di un anno che ho questa modalità di 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 affiliazione con internet ma lo uso da più di sette anni da febbraio 2016 quindi in teoria è un prodotto che uso che amo e che mi sento proprio di sponsorizzare a mani basse non ci fai niente perché non vale a meno che non hai diversi device se hai voglia con più device fai pure tipo levar la wifi e fare un altro click una roba del genere si vede che porto me l'ho chiesto anch'io secondo me è un meccanismo rotto che prima o poi ripareranno non voglio abusarne nel senso c'è chi mi ha detto fatti una maglietta con scritto sono.povero ma no voglio che comunque chi vada sui B è gente che segue i miei video e segue me non voglio che metta un cartellone pubblicità voglio scriverlo sui cessi di Caracas anche se potrebbe essere una buona idea scrivere sono.povero.ro nei cessi dell'autogrill fatelo voi no voglio che che l'esposizione sia vantaggiosa per i B ok i frequency click ci sono altre influenze sull'affiliazione so che c'è Pietro Michelangeli ma mi ha confessato che gli danno molto di meno anche fronzito in realtà in realtà non lo so non lo so perché quello l'ho fatto ad aprile credo quel video credo di averlo fatto ad aprile a marzo questi qui sono soldi di marzo questo era marzo quindi non lo so cosa mi ha aiutato ammetto che lo pusho un po' di più ultimamente perché a queste cifre lo pusho di più lo pusho di più in ogni caso questa è una promessa che posso farvi allora mia opinione sulle sponsorizzazioni non sono amante delle sponsorizzazioni non mi piace fare sponsorizzazioni in generale questa l'ho sempre accettata ce ne ce ne ho poche ho un'affiliazione con fantasia store appunto con finpension con amazon ma molto molto nascosta l'affiliazione con amazon la trovate non so in descrizione di video di youtube e sono due soldi e sono tutti prodotti che uso amazon finpension e interactive brokers interactive brokers lo uso da tanto tempo è il mio broker preferito non è l'ideale per chi sta in italia ci sono altre cose quindi mi sento di oltre ad usare il prodotto essere molto soddisfatto se mi pagano ben venga quale è il problema però sarei in grado di dire di sconsigliarlo qualora dovessero aggiungere dei costi o fare delle cose che non lo reputano non lo fanno più reputare a me stesso il mio broker preferito io mi dico di sì ancora io lo amo e lo uso dovessero fare cose sporche cose brutte probabilmente starò sull'attenti comincia a essere difficile rinunciare a tanti soldi di sponsorizzazione sì ma anche sti cazzi cioè se fanno qualcosa che non mi piace lo dico però nonostante questo ovviamente sono in conflitto di interessi per cui tenetelo in considerazione vengo pagato per come dire ho un incentivo a dirvi che il B è bello il B è bravo tecnicamente no con questo accordo posso pure dirvi madonna il B fa cagare però cliccate lo stesso così gli ciucciamo pure i soldi però no vi dico che è bello lo amo e così via come se ti avessi dato 4 sub più o meno più o meno i B un click vale 2 sub vabbè non si può certo cosa non posso neanche dirle su Twitch per cui torniamo alle cose importanti alle cose importanti i board games no non erano i board games torniamo al cash flow analisi del cash flow analisi del cash flow abbiamo detto ottimo mese non il migliore ma comunque un ottimo mese per i contenuti su YouTube il miglior mese è stato marzo ok anche streaming in generale sto comunque facendo molte live anche se aprile aprile ho avuto un po' di pause però ho fatto dei contenuti quindi la baseline c'è i costi comunque aumentano perché anche la grazia cognome spende soldi tra cui editing e montaggio video ha tanti peccati tanti board games altri costi vari adesso non ricordo dove andare a leggere i pagamenti di contributi pensionistici sono costi e così via e e delle entrate significative quindi il saldo della grazia cognome per questo mese è più 8003 wow wow 8003 che se vediamo le uscite 8184 per la prima volta nella storia della grazia cognome ah però aspetta senza primo pilastro e income tax non ancora ma la grazia cognome può quasi mantenere da sola la vita della mia famiglia questa è una bellissima avremo al primo mese che sono vicino a queste cifre che la mia attività da content creator da sola può mantenere la mia famiglia in realtà in realtà penso che l'ha superato e ora vi spiego il perché quest'altro numero è lo stipendio che mi do come owner e director della della RIP GmbA io ho due aziende tre aziende sono co-founder di una società per azioni NFT Chain sono fondatore unico amministratore CEO almeno di questa della Retail in Progress GmbA e poi sono titolare di una partita IVA chiamiamola così che è la grazia cognome ok detto questo come RIP GmbA mi do uno stipendio che da dove vengono questi soldi vengono dai servizi che fa la RIP GmbA e questo mese è diminuito il lavoro che ho fatto per la per NFT Chain ed è aumentato il il lavoro che ho fatto verso clienti retail che sono consulenze ho avuto un momento di allora qui sarebbe l'aprire parentesi ma non non voglio dire più di tanto ancora diciamo che sono condizioni per le quali ho meno cose da fare in NFT Chain mettiamola così adesso e quindi ho meno lavoro da fare e quindi lavoro di meno e mi devo cercare un lavoro più o meno mi devo cercare un lavoro più o meno mi devo cercare un lavoro e ho detto facciamo così rispondiamo a quelle 130 mail che ho ricevuto in questi ultimi sei mesi per fare delle per fare le consulenze one on one e ne sto facendo diverse alcune molto interessanti e mi hanno provato circa una trentina di persone quindi queste sono altre entrate che vengono dalla content creation che però per motivi diciamo fiscali liabilitiosi fatturo come GmbA quindi in teoria la mia attività da content creator più consulente ha molto superato le uscite questa è una bellissima notizia potrei alle quindi quindi cosa dire mi piace molto questa cosa qua e e niente ancora non posso dire nient'altro quindi comunque questo mese qua lo stipendio della GmbA l'ho mantenuto ancora piuttosto alto anche se al prossimo mese devo valutare di diminuirmi lo stipendio perché avrò meno lavoro da fare mi diminuirò lo stipendio da GmbA a Giorgio perché la GmbA fatturerà molto di meno a NFT Chain si fatturerà però la GAU ha fatto un bel po' di soldi quindi d'entrata questo mese più un po' di dividendi qualche ETF di bond da dividendi gli ETF di bond da dividendi bla 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 tasse attese secondi pilastri 22.356 mese andiamo poi un po' più pam miglior mese di quest'anno e miglior mese credo dell'epoca miglior mese dell'epoca post google no sono 25.000 ad agosto dell'anno scorso si però con 12.000 di ritorno fiscale questo è un po' un cheat se togliamo ah no questo è 40.000 ah sono la tredicesima vabbè c'erano troppi soldi nella GmbA no ok dicembre l'anno scorso è andata un po' ok quello non conta non conta diciamo però a regime senza neanche dividendi veri con bricioline è stato tra i migliori mesi come entrate e anche diciamo l'assenza di babysitter si sente dal punto di vista delle uscite quindi solo 8.000 mille in meno di uscite andiamo adesso in dettaglio quindi un mese finanziariamente molto buono con un bel risparmio 64% di saving rate complimenti a me però un po' troncato dal fatto che il dollaro è debole per cui il risparmio l'incremento di capitale in franchi svizzeri è minore dell'effettivo risparmio in franchi svizzeri che vuol dire che fluttuazioni di mercato più dollaro quindi fluttuazioni di mercato sono state negative anche se qui vedete i colori verdi magari è già stata chiesta ma come mai non ci sono software che fanno questo lavoro cioè quale lavoro quale lavoro uno spreadsheet allora Winet non ho capito come gestisci il network dell'azienda e quelli personali visto che l'azienda è tua li consideri nel tuo network bella domanda Winet e ok proviamo a rispondere come si come si dovrebbe gestire in teoria l'azienda dovrebbe avere un suo bilancio e ce l'ha ha dei bilanci veri hai dei bilanci mettiamoci in full screen questa è carina la domanda è non ho capito come gestisci il network dell'azienda e quelli personali visto che l'azienda è tua li consideri nel tuo network ok in teoria come dovrebbe fare una persona se ha un'azienda l'azienda deve avere un suo bilancio ovviamente con entrate e uscite e quello che il proprietario i proprietari in percentuale quello che le share di un'azienda dovrebbero valere sul proprio network è il loro controvalore cioè quanto vale la mia azienda potrei venderla quanto quanto è il valore di mercato se io vendessi la retail in progress gmba quanto vale sul mercato per la grazia a cognome non ha senso non è un'azienda vendibile non è per una partita iva però non ha struttura giuridica se supereroi 100k di fatturato dovrei crearle una struttura giuridica o incorporarla nella gmba vabbè ci penserò però una partita iva non è lo se tu puoi venderti mentre un'azienda la gmba domani potrebbe uno ti offro 200.000 per la rip gmba vabbè non ha senso perché è un'azienda personale per cui al momento gli asset produttivi sono io quindi che vendo l'azienda sono io non ha senso per cui qual è il suo valore nel net worth ripeto se fosse un'azienda con degli asset produttivi indipendenti da me che potrei teoricamente venderla avrebbe senso metterci il prezzo stimato di vendita è vero anche nel caso in cui non abbia asset produttivi in quel caso qual è il prezzo che va a patrimonio a mio avviso è il prezzo di liquidazione se io dicessi ok stop ferma tutto adesso chiudiamo l'attività che succede ogni asset che rimane vendibile viene venduto e alla fine i soldi sul conto corrente me li riprendo in mano io pagando delle tasse pagando le tasse sui profitti di quelli dell'anno in corso o sulle plus valenze non lo so pagando delle tasse dovute quindi quello che metto a patrimonio con la mia azienda la mia gmba è il valore di liquidazione quindi quanto quanto potrei quanto c'è sui conti corrente alla fine al momento è tutto liquido non c'è nessun asset che ha valore non è che ho macchinari non è che ho comprato una fotocopiatrice da 100.000 euro ho soltanto conti corrente quindi conti corrente meno tasse attese meno altri liability quindi i debiti che ho verso il primo pilastro il secondo asset meno liability quello lì per me è il valore di liquidazione meno tasse dovute è sul mio patrimonio mentre invece per la mia startup lì ho delle quote e in teoria dovrei metterci il valore delle quote se potessi rivenderle al momento ci metto soltanto il valore di quanto le ho pagate quindi ci metto il prezzo di acquisto delle quote che sono state il capitale depositato inizialmente e quindi due spicci poi se varranno di più Dio solo lo sa ecco sì esatto non capivi perché scrivesi tutto su foglio Excel per calcolare il valore di liquidazione potrei in teoria estrarlo e metterlo in un altro conteggio e riportare solo una riga qua riportare la riga valore della GmbA ah poi sì grande shoutout a Sossoldi che è un progetto open source nato nel Discord se qualcuno vuole partecipare è benvenuto ok te lo chiedo perché ho una SRL di sviluppo software qui tu hai aperto l'azienda prettamente per un discorso fiscale beh perché dovevo in qualche modo dovevo intascare dei soldi a un certo punto dovevo aprire l'azienda non aveva senso gestire tutto quanto con una partita IVA tra virgolette qui sopra i 100k poi diventa un'azienda è un po' complicato sopra i 100k l'anno quindi ho preferito aprire una SRL anche per l'aspetto limite di liability sì in parte ma non esclusivamente ok benissimo andiamo sulle spese tac andiamo sulle spese poi so che dovrei aggiornare gli altri tab qui non li aggiorno da tantissimo tempo non li aggiorno patrimonio storico dovrei aggiornare sarebbe anche divertente farlo guardate in dollari come balla il patrimonio storico mentre in franchi in euro è più piatto in dollari il dollaro vale tantissimo no il dollaro è una merda no poi il dollaro vale tantissimo fantastico dovrei aggiornare un po' tutti gli altri tab e prometto che lo faccio lo faccio prometto che lo faccio lo faccio un giorno lo faccio soffermo da un po' di mesi al prossimo financial update che spero non farò all'improvviso ripercorreremo anche tutti quanti gli altri tab come sono fermi a gennaio febbraio marzo sono da aggiornare la ravenna threat lo faremo non oggi spese se mi metto così tac no le copro tac non fai nero sei poco italiano beh è quasi impossibile qua far nero ragazzi è quasi impossibile quindi io in teoria in teoria pago poco in teoria sei anche poco incentivato parliamo di questa cosa qua a parte che se facessi nero non lo direi su youtube vabbè mettila così ma qui sei poco incentivato onestamente le tasse che pago non sono tante non sono tante in percentuale sul sul fatturato sono basse ho tante detrazioni ho tre figli ho tantissime detrazioni quindi sono abbastanza contento con la situazione fiscale qui cioè l'imponibile pure quest'anno è sceso sotto i 130 tolte tutte le detrazioni pagherò 20.000 di tasse va bene va bene così andiamo avanti spese insommiamo aprile come ho detto sono leggermente rispetto agli altri mesi rispetto agli altri mesi mettiamo il short insomma apriamo già pure maggio che è già iniziato e già sono partiti qua 3.500 vabbè lasciamo perdere rispetto agli altri mesi aprile stiamo mille franchi sotto gli altri mesi perché siamo più bravi no sapete non abbiamo babysitter in questo momento cioè abbiamo abbiamo rattoppato c'è sta babysitter numero 1 che poi se ne va lascia il t entra babysitter numero 2 attenzione poi c'è babysitter numero 3 a sorpasso a destra babysitter numero 4 poi torna la numero 3 ancora numero 3 stiamo impazzendo perché la nostra babysitter numero 1 tanto amata purtroppo non può più lavorare con noi e quindi stiamo provando più babysitter però con molti buchi poi sotto ferie scolastiche andate in Italia niente babysitter diciamo che ha un periodo un po' così però le spese baby sono diminuite perché babysitter molto andiamo a vedere non lo so il grafico e mettiamo mettiamo gennaio diciamo marzo e mettiamo aprile quindi aprile il blu il blu housing è molto sopra ora capiamo perché però lato baby sono molto sotto rispetto a febbraio e marzo cioè aprile febbraio marzo per qualche motivo e per il resto tutto più basso housing sopra perché sono un paio di piccoli cetriolini se non sbaglio che sono housing è arrivato il canone televisivo grazie il canone televisivo tutto l'anno 335 franchi vabbè un saldo di elettricità e donna delle pulizie perché abbiamo preso pure donna delle pulizie una tantum e poi e poi e poi niente quindi questi tre eventi donna delle pulizie che adesso prenderemo penso con regolarità una volta ogni due settimane almeno perché senza babysitter non ci stiamo proprio dietro più poi questo one off di spesa per canone televisivo che non vediamo che non usiamo che non usiamo e poi un saldo di elettricità vabbè o è la semplice bolletta trimestrale forse non lo so questo è più o meno tre mesi di elettricità quindi c'è stato questo piccolo spike di spese per la casa vabbè il resto ragionevole cose worth mentioning sì la saga delle babysitter ovviamente altre cose interessanti da menzionare tante Kinderhort questa è la dopo scuola di mia figlia più grande che va a scuola e l'obbligo è gratis però quei due rientri pomeridiani che fai in un mese costano così alle grandissima notte notizia dal prossimo anno tutte le scuole in svizzera diventano taghe schule o almeno canton zurigo che significa che fino alle due penso per una cifra simbolica puoi lasciarle a scuola perché adesso le bambine sono da scuola a mezzogiorno meno cinque quindi oggi la scuola dell'obbligo dal kindergarten in poi è dalle otto e un quarto fino a mezzogiorno meno cinque quindi manco quattro ore diventeranno sei ore quindi due ore in più saranno incluse sarà un respiro fenomenale e quindi ogni giorno che fa il dopo scuola invece di costare settantasette costerà una quarantina quindi sarà molto molto meglio quindi questo qui a lei a lei a lei che orario è? tutte le mattine dalle otto e quinte otto e trentacinque perché si entra a scuola fino alle otto e trentacinque dalle otto e quindici otto e trentacinque si entra e si esce alle undici e cinquantacinque quindi sono tre ore e venti tre ore e quaranta di scuola e poi la vogliamo andare dopo scuola settantasette al giorno diventeranno quarantacinque quaranta perché le prime due ore saranno coperte dal fatto che il canton Zurigo ha o non so se tutta la Svizzera o solo il cantone la scuola sarà terracura fino al pranzo incluso questa è una tantissima roba tantissima roba vanno il sabato no manco morti vanno da lunedì al venerdì e ogni due mesi si fermano due settimane per cui se vuoi paghi come traccio le spese al momento lo faccio a mano quanto tempo ci metto ogni due settimane sincronizzo ci metterò forse un'ora al mese non è facilissimo però un'ora al mese non di più altre cose worth mentioning tutta spesa ragazzi Micros Spar Spar Aldi Micros Denner Spar Cop Spar Denner Cop 2-3 al giorno perché io sto al lavoro vicino alla Spar poi mia moglie Valdea poi stiamo sempre nei supermercati sempre nei supermercati altre cose worth mentioning che mi ha detto questo fee dollari che non capisco cos'è in Interactive Brokers un fee da 1,50 per interessi negativi non ho ben capito cosa è successo una cosa brutta di interattiva ve lo dico subito IB mi ha preso un fee che non ho capito non ho avuto neanche il tempo per esplorarlo però un dollaro e mezzo che non so da dove viene quindi magari appena ho tempo farò un inquiry più che altro giusto per la cronaca non perché un dollaro e mezzo non so però c'è un dollaro e mezzo che non so bene cos'è debit interest a marzo non ho ben capito da dove viene dovrei approfondire e poi bastardi questo qui è post finance i soldi di Interactive Brokers come sponsorship purtroppo non possono darmeli sul conto Interactive Brokers quindi io gli ho chiesto ma quei soldi che abbiamo visto prima quei 7000 non potete mettermeli sul conto IB purtroppo hanno chiesto anche altri influencer non si può immagino che il motivo sia che è un servizio devi darmi un IB ti devo pagare esterno non posso avere un contratto con qualcuno nel modo di pagamento che mi li sposto in un database mio quindi ci sta che devono mandarmi dei soldi esternamente il mio conto per raccogliere questi dollari è su post finance in dollari ho un conto in dollari che aspetta i soldi di Interactive Brokers loro li mandano un po' pezzato li mandano lì e post finance si prende 5 franchi di commissione e nel farli risputare fuori post finance si prende altri 16 altri 16 dollari di commissione quindi mi costa 20 dollari farli entrare e farli uscire merde di post finance IB non prende una lira però non ho alternative non ho alternative l'unica stavo pensando farmi andare su Revolut e poi da Revolut mandarli su IB vabbè non ho manco voglia di ottimizzare troppo però ecco quando IB mi paga post finance si prende 5 dollari in ingresso e 20 in uscita e 16 in uscita ci sta anche qui un dove sta un 380 che devo ancora andare a capire cosa sono su carta di credito è solo mia pigrizia non ho riaperto il conto della carta di credito lo modificherò retroattivamente in ogni caso 8183 non male non male non male sono tante righe 107 righe 105 diverse uscite che sono un po' anche faticose da inserire ma non male rispetto alla media di quest'anno più che bene vediamo un po' torniamo un attimo in real time a tua moglie non pesa questa pignoleria nel segnale uscita no ma dove sta la pignoleria sono entry sulla carta di credito che prendo e trascrivo non c'è nessuna pignoleria lo faccio lo faccio da sempre lo facevo anche prima che lei esistesse per cui non vedo perché è ovvio che alcune cose che non cioè a lei lo sa se deve far spese che gli dispiace che siano una entry pubblica prelevasse contante e pagasse in contante oppure lei ha una sua revolut si può trasferire soldi sulla sua revolut e per me sono usciti appena arrivano sulla sua revolut e quindi prelevo categorizzato come spese di leisure da qualche parte ci dovrebbe stare qui leisure dove sta cash eccolo qui ecco qua cash withdraw chf mia moglie ops non sto non sto mostrando c'è un'uscita prelevo in contanti in franchi che che per me la metto a non dovrei metterla mister leisure mr leisure mrs leisure sono spese sue e quindi non voglio sapere come li spende facesse il cazzo che vuole in realtà ha prelevato di più ma alcune spese erano le nostre erano già doveva pagare la palestra e cavoli i vari quindi c'è un'altra entry specifica non reputo che sia pignolleria cioè ho sempre fatto così continuerò a far così e via mia moglie sapeva chi sposava questo una cosa che non ho mai capito sui bkr è quali sono i costi per un saldo negativo stare in leva è documentatissimo i costi del margin loan sono sempre aggiornati in base ai tassi di interesse però se vai su m3y e poi dopo da lì cerchi interest rates trovi i tassi di stare negativo su qualche currency su ciascuna currency possibile immaginabile facciamo vedere interactive brokers interest tac interest rates eccolo qua questo è quello che vieni pagato in teoria unavailable cash balance volevo in realtà vedere da qualche parte il questo qui è i soldi che ti danno loro a te anche il calculator dovrebbe esserci i margin rate cerchiamo interactive brokers margin rate margin rate and financing se vai negativo questo è quanto paghi devi selezionare il prodotto che hai il piano che hai e così via se sei negativo in dollari è adesso è più alto è più alto ma perché è il il base rate più uno e mezzo di spread i primi 100k se hai milioni lo spread diventa più basso in dollari poi se hai diram se hai dollari australiani franchi svizzeri 2,378 spread è altino lo spread è altino questo è quello che tu paghi se vai in debito se hai se vai in debito di parecchio si abbassa lo spread ecco puoi prenderti un mutuo al volo chiedendo un milione puoi prenderti un mutuo su interactive brokers ti fa da un milione e mezzo bello fino a 46 milioni cifra ti fa da un milione e mezzo da loro è all'1,6% è un po' alto come mutuo adesso in Svizzera trovi tasse più bassi prima di andar via ho scoperto cosa che volevo mostrarvi prima ed è ho sbloccato la colonna di maggio che avevo già aperto a mezzanotte mentre stavo in Italia ho copi incollato e fatto gli spostamenti e maggio finora va na merda maggio finora mi sono non sono più multimilionario quindi sono stato multimilionario sono stato multimilionario qualche minuto qualche minuto fino a tre ore fa ero ancora multimilionario adesso nonostante nonostante i board games maggio ma che cazzo sta succedendo il dollaro va a merda e pure tutte le azioni ma che pa è un periodaccio è un anno e mezzo sta borsa sta facendo schifo sono un semplice povero milionario sto pensando che nel corso dei mesi questo formato lo sto un po' troppo riducendo all'osso prima facevo anche snapshotting e mese successivo questo quando riuscivo a farlo a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese ultimamente è un po' difficile farlo combaciare con le mezzanotti del mese precedente e poi esploravo anche gli altri tab vi prometto che il prossimo mese quando capita il 31 maggio magari se riesce a capitare un giorno interessante 31 maggio è mercoledì potrei fare live il mercoledì per fare l'update al punto giusto con anche tutti gli altri spreadsheet gli altri sheet dello spreadsheet aggiornati ci proverò ci proverò